Abbiamo visto un calo nelle vendite da fine ottobre, prima ancora con il bel tempo qualche turista, stranieri e anche un po' di fanesi, diciamo che la vendita dell'autunnale era partita bene e adesso da fine ottobre e questi dieci giorni di novembre non sta andando benissimo. Quanto la grande distribuzione incide in questo, i grandi negozi? Eh, la grande distribuzione ormai anni che c'è ma sicuramente ci ha portato via gente in centro, dal centro sicuro. Pensa che potrebbe aiutare decidere una data unica per i saldi? Ma la data unica è giusta ma ormai un pezzo che si dice era meglio che era più là. Ad esempio a luglio, al 2 luglio iniziano i saldi quando noi a fine luglio cominciamo a pagare i sandali che al 2 luglio li prendono già con uno sconto del 20-25%. Quindi una soluzione potrebbe essere lo slittamento dei saldi? Per me lo slittamento dei saldi era un po' che si chiedeva, perché quella di luglio, 2 luglio, dire saldi di fine stagione mi sembra proprio una cosa assurda. Quanto questo caldo ha influenzato sulle vendite, sulle non vendite? Quest'anno parecchio, comunque abbiamo avuto una stagione estiva anche troppo lunga rispetto a quello che ci immaginavamo e inizia ad esserci adesso i primi freddi. Quindi speriamo inizi a muoversi qualcosa già da questo weekend e che si abbassino un po' le temperature in modo da riuscire appunto a vendere la merce che abbiamo in negozio. Poi c'è il discorso saldi, secondo lei sarebbe giusto farli slittare? Sicuramente farli slittare di un periodo sarebbe giusto, poi purtroppo il periodo è quello, se poi vengono slittati troppo si accavallano comunque con i nuovi arrivi della primavera. Adesso per esempio però c'è il Black Friday il 24 novembre, non ci voleva? Noi non aderiamo a questo Black Friday, cioè non abbiamo mai aderito a queste campagne di vendita che sono solamente dei modi per svuotare magazzini e per far sì che la gente compri compulsivamente. Il fatto della vendita online comunque penalizza noi che siamo piccole realtà, anche se io faccio appello un po' a quello che dovrebbe essere il senso civico di ognuno di noi e pensare che portare soldi nella propria città sia dovere di ogni cittadino. Ci sono anche persone che addirittura vanno a provare le cose nei negozi e poi se le comprano online. Ecco, infatti questo è un'altra cosa che non sarebbe giusto fare, nel senso che noi veniamo qua per lavorare ma anche ci mettiamo l'impegno, la simpatia, l'accoglienza, tutte cose che nell'online comunque vengono a mancare e utilizzarci come solo banco di prova per poi acquistare altrove non è proprio corretto. Il gusto che si può provare nell'uscire da un negozio con una busta è qualcosa di magico diciamo. Oltretutto quest'anno ci si è messo anche il caldo. Il caldo ha inciso purtroppo negativamente sull'inizio delle vendite della collezione invernale perché obiettivamente con i 20 gradi e passa di ottobre era impensabile pensare anche solo di provarsi una maglia di lana. Quindi la nostra richiesta è quella quantomeno di riuscire a posticipare un pochino i saldi perché giustamente chi arrivati a questo punto magari non preferirebbe aspettare e comprare con uno sconto importante. Sarebbe bene un po' trovare un punto di accordo che ci veda tutti uniti. Aderirete al Black Friday? Indubbiamente sì perché i clienti si sono ormai abituati, siamo un po' costretti anche ad anticiparlo, non solo a farlo ma ad anticiparlo per poter lavorare. Io ad esempio l'ho fatto. Alla prossima Alla prossima Alla prossima